Ingegnerizziamo l'old fashion. Quando si va a preparare un old fashion solitamente si va ad inzuppare una zolletta di zucchero con dell'angostura. Una zolletta pesa circa 6 grammi e mezzo. Possiamo andarlo a sostituire con 10 ml di sciroppo di zucchero al 62%. Quello che rimarrà nel Jigger saranno circa 2 ml, quindi abbiamo 8 ml che sono esattamente 7 grammi di zucchero. 1.5 grammi di angostura corrispondono a 5 dash. 60 ml di whisky, bourbon o rye. Aggiungiamo ghiaccio e andiamo a fare stir con un termometro fino a raggiungere la temperatura di meno 3 o meno 4 gradi centigradi. Prendiamo un bicchiere di servizio precedentemente raffreddato e ce ne andiamo a mettere all'interno un unico cubo di ghiaccio. In questo modo andremo a rallentare la diluizione secondaria e andiamo a completare con un twist di arancia. Fammi sapere con quale whisky preferisci l'old fashion e se vuoi approfondire vai sul mio sito web.